Truffe online di pezzi d'automobili ma anche supporti elettronici come iPhone, iPad tra gli arresti questa mattina della Polizia Stradale di Pescara che è indagato dall'agosto 2011 al dicembre 2012 in sintonia con la Polizia Postale. La truffa consisteva nel porre fittiziamente in vendita su un siti web, i siti web più noti, dei beni mobili a un prezzo inferiore a quello di mercato e quindi con artifici o raggiri indurre in errore le persone che contrattavano l'acquisto di questi beni mobili farsi rilasciare un acconto per l'acquisto di questi beni e poi scomparire subito dopo quindi senza poi far recapitare il bene acquistato. I beni andavano da pezzi di ricambio di autovetture perché è il motivo per cui è stata coinvolta anche la Polizia Stradale e la prima denuncia è stata presentata proprio alla Polizia Stradale quindi dal volante ai cerchi in lega all'acquisto di alcune gomme, ruote, a telefonini. Almeno 40 le truffe individuate compiute dalla compagine associativa che faceva riferimento ai tre arrestati perché hanno reiterato il reato nonostante indagati. Kevin Manfrini, 23enne, Cristian Aranghelli di Venti e Denise Canale, 21enne, tutte e tre pescaresi. Siamo parlando di un giro di affari che non è stato ancora quantificato ammonta ad oggi oltre 20.000 euro però non è stato quantificato anche perché il reato e i vari reati sono stati commessi in tutta Italia quindi dal Trentino alla Puglia alla Sicilia ha riguardato quindi le varie regioni italiane e quindi sono ancora in corso indagini le indagini di cui parliamo oggi sono quelle che sono state denunciate sono state accertate ma ce ne sono tante altre ancora in corso di accertamento. il Pubblico Ministero ha ritenuto che ci fossero esigenze cautelari ha richiesto per queste tre persone le misure che sono state poi accolte ed emanate dal giudice e dal GIP e quindi questa mattina sono state eseguite.